Ciao, sono la dottoressa Giassin Falina e oggi voglio parlarti delle numerose proprietà benefiche dello zenzero 1. Antiossidante e antinfiammatorio naturale 2. Aiuta a combattere gli stati influenzali ma anche i dolori osteoarticolari 3. Ha buone proprietà digestive e facilita il mantenimento della flora batterica intestinale e 4. Che sicuramente è la proprietà che più ti interesserà, aiuta ad accelerare il tuo metabolismo quindi ti aiuterà a bruciare più grassi e di conseguenza quindi a diminuire il tuo peso ovviamente però ricorda sempre che lo zenzero da solo non fa miracoli ma sicuramente abbinato ad una sola alimentazione, ad un'attività fisica costante, dà degli ottimi risultati può essere quindi un rimedio naturale molto efficace ovviamente il mio consiglio è quello di consumare la radice di zenzero fresco quindi inizia ad introdurla nella tua alimentazione magari preparando delle ottime tisane ma anche andando a mordicchiare proprio la radice fresca dello zenzero e vedrai che otterrai degli ottimi risultati per qualsiasi domanda o dubbio scrivimi pure ciao e a presto!